www.morizopoli.it Una notizia che mi ha colpito in questi giorni sulla stampa parla di un'azienda di Romano e Lombardia attiva nel tessile, si chiama la Simmi di Romano e Lombardia dell'imprenditore Giorgio Bona La sintesi è che in agione di Santa Lucia ha donato il 49% delle azioni ai suoi 6 dipendenti più meritevoli Il titolare ha 70 anni e l'azienda è specializzata nel confezionamento di abiti per le rinomate maison di moda è stata fondata questa azienda ancora negli anni 70 e loro venivano da Biella e si sono trasferiti a Romano e Lombardia perché c'erano anche dei vantaggi fiscali ma anche qui fu allora che mio padre e qui trovate l'articolo, la fonte e tutto quanto di donarmi il 49% dell'azienda i Bona hanno sempre avuto un animo imprenditoriale e dal malificio hanno trasformato questa bellissima realtà aziendale che da lavoro ha 52 persone 8, quasi 9 milioni di euro di fatturato e fanno circa 61 mila capi prodotti quindi una bellissima realtà imprenditoriale però per la continuità aziendale per il passaggio generazionale ha donato questo 49% agli e ai propri dipendenti dicendogli che poi potranno avere fino al 100% dell'azienda ha 70 anni lungimirante ecco come non si chiudono aziende ecco come si dà futuro a un'idea imprenditoriale dice io non ho figli e quindi questo è il passaggio molto intelligente molto lungimirante di un imprenditore vi riporto poi tutto l'articolo perché avesse voglia di approfondirlo quindi aziende che vogliono continuità aziendale soluzioni ci sono strumenti per il passaggio nazionale ci sono servono anche imprenditori lungimiranti sia nel costruire che nel dare futuro alle proprie aziende quindi una lettura molto interessante una buona giornata il mio sito è www.mauriziopoli.it il mio numero di telefono 0372 20405 una mail per chi volesse contattarmi e approfondire questi argomenti www.m.poli.it e ricordate sempre che il risparmio di oggi è il pane di domani alla prossima